Molte le terapie innovative presentate in occasione del congresso ISIAT di Roma, fra queste l'impiego degli inibitori dell'interlochina 1, di cui ha parlato un grande esperto, il professor Chevalier, con il quale abbiamo affrontato questi temi. Quale è il tuo commento sul congresso ISIAT? Penso che sia una grande iniziativa del professor Migli ERA, perché questo è il primo congresso di questi temi molto piccoli, quindi è una grande iniziativa, un grande congresso e possiamo dire che sia un congresso successo. Qui presentatevi una esperienza molto interessante sull'interlochina 1 inibitori in osteoarthritis. Quali sono i dati? C'è molto interessante di concentrarsi sull'interlochina 1 in osteoarthritis in osteoarthritis, quindi l'idea era di bloccare l'Io1, e abbiamo fatto due studi cliniche con un inibitor di Io1 e Akinra. E lo più importante era un testo placebo randomizzato, e infortunatamente è falle, perché non abbiamo potuto trovare una differenza tra l'Akinra e il placebo. Ma la storia probabilmente non è finita con l'Io1 blockade, perché abbiamo trovato alcuni buoni risultati di Io4, e ho anche visto che ci sono due piccoli studi con l'Io1 che sono molto promessi. Quindi, per esempio, è sicuramente molto interessante di bloccare Io1, e ora è una questione del tempo residente, e per trovare un buon inibitor di Io1. Ci sono anche altri inibitori interleukin 1 inibitori, per esempio Canakinumab. Sì, planificate di studiare anche queste droghe? C'è un testo lungo con Canakinumab, e l'avvento di Canakinumab è che non è più lungo, una半a vita, circa tre settimane. Quindi l'idea globale è andare all'inibitor di Io1 con un tempo più lungo residente nel giunto. Quindi, se funziona, si mostrerà che funziona? Sì, speriamo. Sì, speriamo. In questo congresso ero il Presidente di una sessione molto interessante in cui presenti i dati dell'uso dell'intraarticulare clodronate e derivati di morfina. Quali sono i tuoi commenti sull'uso di questi prodotti? È stato un tipo di sessione economica, perché abbiamo usato morfina, clodronate e anche capsaicina, che sono abbastanza inutile. Ma è stato molto interessante perché l'idea di trovare qualcosa che diminuisce la paine per l'intraarticulare è molto permissante. Ma ora, per tutto questo modo molto inutile, il problema è di andare più da un effetto di placebo. Quindi, come probabilmente avete ascoltato, la studia di Clodonate è ora inizia in un randamizzato placebo controllo. Il trial di morfina in le temporomandibulari jointe è molto interessante. Quindi, è abbastanza interessante vedere che ci sono molti nuovi passaggi, nuovi strumenti e passaggi per l'intraarticulare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.